Allora qui ci siamo, mancano 7 chilometri al Sestriere e vediamo 18 chilometri al Sestriere, è ancora lunga, comunque vediamo tutti in formissima, cioè io sono in formissima, io mi sono ripresa, Federica si è ripresa, è in formissima, il nostro zio Spazi è in formissima anche lui, poi c'è Virginia che mi sembra, c'è un po' tutto, che dici? Si presta benissimo e poi abbiamo la nostra Diana, la nostra Diana che ha fatto tutta una tirata, Virginia direi che possiamo mettere anche la nostra canzone, a palla proprio, vero? C'è una botta? E allora? E allora? Music! Sestriere, 2008, 21,08, 2008, Virginia Jay, Diana Kiriak, Virginia Jay, c'è Elisabeth, Rebecca Eichardo, Mr. Ballen Stai riprendendo? Stai riprendendo? Sì! Volevo dire una cosa, nel caso ci eliminassero le bimbe, dico che da ora la giuria non ci capisce niente, questo sarà pubblicato, sarà pubblicato questo? No, ma azzardà, si è trattato male le bimbe, perché è di spaziale, sarà implacabile, comunque le meglio di tutti, le meglio di tutte sono, Rebecca Iacono, Elisa Billi, Laura Cellesi, Faffanculo! Lei dice tutti! Loro sono il numero uno! Loro sono il numero uno! Elisa Conforti, Christel Ballest, Polizia, Telatrimatici, Paruzzo, Paruzzo, lui vince, con me vince, poi ci stiamo dimenticando, Silvia Trigiani, Stanno passando? Stanno passando? Stanno passando? Poi abbiamo le riserve, Federico Azzieri, invece... La riserva oro! Ma, vediamo un po', eh, come andrà a finire. Sentite come va a finire? Guarda che occhio! Quale? Destra e sinistra? Tutti e due! Solo noi abbiamo l'alassio nella manica! Ma... Ci vedremo... Se c'è qualcuna in giuria, la possono rompere! Se vai più piano, si muove la mano! Manca, no? Quattordici chilometri! La strada è un po' curvosa, però... La strada è in town! E ora comincerà a stagire! Fede! 0572957648! Vedete che si devia... Ah, lei, basta un po'? Passiamo la sigla! Pronto! Prima in diretta! Oh, annunzia! Lo sapevo che eri te! Annunzia! Ops! Ma non si annunzia! No, l'ha chiesto a Fede, ha fatto no! Ma io sto numero nono! Non si annunzia! Ah, ecco, ecco, ecco! Ti passo lei? Eh? Passo lei! No, no, siamo, guarda, Ci sono cinque chilometri siamo! No, cosa è arrivato? Siamo tornati in forma! Eh, vabbè, siamo fermati tipo sette, otto volte, eh! Però... Non siamo puntuali! Vai, ti passa a te, figlio? Un'ora e mezzo! No, ma lei si è rifatta a parte! Sì, sì! Sì, sì! Mamma! Te la passo, vai! Ciao, annunzia! Ciao, ciao! Ora parlo con la mamma, che si preoccupa! Mamma! Ciao! 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 Ah, sì, sì! Sì, il tifo! Il tifone! Ah, sì, sì, sì!